Ieri in tv ho visto nemici. Nemici è un talent di Maria De Filippi. Ballerini e cantanti molto giovani gareggiano per diventare famosi. Gareggiano e intanto si detestano a morte. C'è una giuria che li giudica. Anche loro si detestano a morte. Maria è l'unica persona amica del talent, una vera santa. Il talent è finito alle 23 e 30. Alle 24 ero sotto le coperte. Adoro i talent, non mi piace leggere. Per niente. Ecco un esempio di Shopping List Text, un testo che assomiglia a un elenco alla lista della spesa. È un testo molto schematico in cui prevale la paratassi, vale a dire, l'accostamento di frasi semplici coordinate tra loro per assindeto, con la virgola, o attraverso congiunzioni coordinanti. E ma perciò, quindi, pertanto. È un testo in genere molto ripetitivo perché mancano i connettivi, il pronome relativo e le congiunzioni subordinanti, che oltre a collegare le varie parti del testo tra di loro, consentono di evitare le ripetizioni. È un testo da scuola primaria. Chi continua a scrivere in questo modo anche più avanti è un lettore occasionale, o ancor peggio, un non lettore. Talora scioccamente fiero di esserlo. Nel nostro paese è in ottima compagnia. Grazie.